Sasi che è un tronista, sasi che è il fotomodello, l'ex fidanzato di Paola, tutte queste cose, sasi è un mito, ma non hai paura che non essendo più tronista, non essendo più il ragazzo di Paola, magari un po' il tuo successo scemi, ovviamente non è il tuo caso perché abbiamo visto che ti acclamano in tanti, ma qual è il... E io voglio chiederti un'altra cosa, il segreto del tuo successo? Beh, il segreto del mio successo, non lo so, domanderò a loro, guarda, non a me, perché non ho più fallo di idea, quindi... D'accordo, chiederò a loro le tue fan, un'ultima domanda e poi ti lascio lì però alle tue fan, sei una ragazza stupenda, viene da te la prima sera, la seconda sera e la terza sera fa comparire un oggetto particolare, cosa le dici? Sì, ho prima chitto... E allora... Il peggio della ragazza, dai... Cosa? Il peggio della ragazza... E questo è il vero sassi, timido, orgoglioso, ma in fondo è un bolaccione, uno splendido ragazzo... Ho studiato psicologia, eh? No, ho studiato il tuo profilo! Ma dai! Similia, un'ultima cosa, mi fai gli auguri di buon inizio anno per tutti gli utenti di NBTV? Tanti auguri a tutti, buon anno a tutti gli utenti di NBTV! Grazie, grazie, auguri! Grazie! Grazie a tutti!